no ultimamente sto notando ho fatto resettare dal concessionario la le bocchette dell'aria perché adesso sono tutte elettriche con servomotori a ridare c'è le malette manuali che almeno non si rompevano mai e adesso ho notato che però c'è il clima bizona che non si ripristina allora ho trovato a cercare su internet allora ho beccato questo post l'unico menù segreto è per resettare il clima bizona e le cose sul mar vabbè arriva a 0 ok poi c'è questo invece che mi sembra più preciso allora autodiagnosi clima automatico e tutto il resto adesso proverò magari a fare prima la procedura automatica ma c'è l'impostazione c'era la foto della della mia console diciamo del climatizzatore e sembra ma è diverso da questo qua parlato perché allora qua mi dice auto e mono insieme auto e mono sono questi due qui auto e mono mentre invece mi dice prendere il tasto auto vediamo un po cosa si riesce a fare ok Grazie a tutti.